Abbiamo progettato affinché dei satelliti facciano delle foto a un asteroide, una cometa. Detto così, il progetto ideato da sei studenti del liceo Brocchi e che va sul successo al concorso Zero Robotics del MIT di Boston, sembra cosa alquanto semplice. Ma se si guarda questa lunga serie di cifre e lettere che compongono il codice informatico del progetto, si capisce l'impegno sotteso al lavoro realizzato da Francesco Miculis Borsoi, Carlo Zen, Giacomo Zonta, Massimiliano Moccellin, Leonardo Cattarin e Andrea Cracco. Ci vuole molto ragionamento, una grande capacità di capire matematica e fisica e tempo e voglia di immaginare. Eppure, quando i sia ragazzi bassanesi e la loro insegnante Marta Corà sono arrivate all'Agenzia Spaziale Europea ESAESTEC in Olanda, l'idea di poter vincere sembrava cosa quasi impossibile. Siamo andati lì un po' allo sbaraglio in realtà perché non sapevamo di cosa si trattasse. In realtà tutto ciò è diventato una cosa molto bella e si è rivelata una grande soddisfazione e una scelta corretta. Basta pensare che i ragazzi sono riusciti persino a parlare con lo spazio. Beh, è stato molto molto emozionante, devo ammettere. Eravamo anche circondati da astronauti come Paolo Nespoli e davvero guardare in su e vedere la stazione spaziale sullo schermo con il nostro codice che girava è stata una fortissima emozione, devo ammetterlo. Per conquistare questo importante traguardo i sei liceali ci hanno messo passione e molte ore del loro tempo libero ma le basi per arrivare al successo sono state apprese a scuola. La funzione della scuola, dell'insegnamento sia proprio quello di avviare i ragazzi, di instradarli e poi lasciare che siano loro che esprimano effettivamente il loro talento.